Resta alta l'attenzione da parte dell'amministrazione guidata dalla sindaca cecilia francese inerenti ai rifiuti. La regione ha fatto intendere che ad Acerra stanno lavorando per risolvere il problema generato da un quasto all'impianto. Intanto insorgono i comuni della provincia di Salerno che sversano a Senghiuzzo nell'ex stile di Battipaglia. Al momento è stata prevista una riduzione dei conferimenti della struttura di Battipaglia per garantire a tutti i comuni la possibilità di sversare la frazione organica, una sorta di piano per evitare l'emergenza. Dal comune di Battipaglia sottolineano che la situazione è gravosa ed urgente e sollecitano una celere soluzione alla regione Campania. L'attività di raccolta rifiuti potrà subire dei rallentamenti a causa delle difficoltà riscontrate ed invitano i cittadini a collaborare.